L'erba che nasce su sagrati delle chiese del centro storico alimenta le polemiche tra amministrazione comunale e opposizione. In questi giorni il consigliere di Lucca Futura, Gabriele Olivati, aveva evidenziato che la nuova maggioranza in comune, dopo anni di lamentele a causa dei sciuffi d'erba, che nascono spontanei tra la pavimentazione di marmo di San Michele, non si era attivata per risolvere il problema. Stamani, primo agosto, però, l'amministrazione comunale si è messa in azione e con un intervento di pulizia straordinaria, supervisionato dall'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, le erbacce sono state finalmente estirpate e il sagrato di San Michele può nuovamente mostrarsi in tutto il suo splendore. L'intervento è stato effettuato dagli addetti alla manutenzione del territorio del comune di Lucca.